Buongiorno a tutti, sono qui nella mia azienda stamani con gli amici di Best Why perché ho molte novità e ci tenevo che loro fossero i primi a percepirli, a prenderne atto. Molte novità perché come tutti sapete la nostra azienda ha origini antiche, dal 1831 facciamo i vini tipici della Toscana, San Giovese in particolare, Cannaiole, Malvasia eccetera. Da qualche anno abbiamo introdotto linee di Cabernet Sauvignon che vinifichiamo sia in purezza sia in blend col San Giovese. Le strutture sono state modificate negli anni 2000 dopo la morte di mio padre e ora abbiamo sentito veramente la necessità di fare un bel salto di qualità. Quindi ho portato il mio amico Maurizio a fare un giro dalla nuova struttura che vi presenteremo a brevissimo con impianti particolari, insomma impianti tipici del settore ma molto all'avanguardia. Quindi temperature controllate rigorosamente vaso per vaso, tino per tino, umidità delle barriccaie super controllate e tante cose che abbiamo cominciato a fare anche con l'aiuto di un nuovo enologo. Siamo tutti ansiosi di vedere l'uscita dei prossimi vini. Ora siamo nella vendemmia 2020, 2021 scusate, che quindi uscirà nel 2023 presumo ma anche la 20 avrà delle buone sorprese. tutto il mio dolore, così forte, così grande, che mi traficce il cuore. Vi invito tutti ad assaggiare questi nostri prodotti perché il primo piacere per noi della famiglia Bocelli è farlo il vino buono per la nostra soddisfazione, però è il piacere più grande anche quando chi lo beve lo apprezza e ci fa complimenti o critiche perché anche le critiche servono per crescere. Quindi siamo tutti ansiosi dei risultati di questa nuova vendemmia che, dicono gli esperti, sarà minor quantità ma miglior qualità addirittura dell'anno precedente. e vi aspetto nelle nostre strutture. Grazie a tutti e un grosso saluto da Alberto, Alessio e Maurizio. Ciao, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.